Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sarzana in entrambe le direzioni. È chiusa una corsia per lavori tra Gavorrano e Scarlino Scalo in direzione Genova. Sulla tangenziale di Siena, scambio di carreggiata per lavori tra Acqua Calda e Siena Nord in direzione Siena. Chiuso lo svincolo di Siena Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti.